Il nostro approfondimento spazio è ancora all'incontro con i primi cittadini, in molti casi sono nuovi, neoeletti, i primi cittadini, nel caso odierno si tratta di un sindaco che è stato riconfermato dalla più recente tornata elettorale alle amministrative, è il sindaco di San Paolo d'Argon Stefano Cortinovis che è venuto a trovarci quest'oggi, ben trovato sindaco, grazie per essere con noi, congratulazioni per la rielezione. Grazie, buongiorno a tutti. Come è stata questa continuazione di esperienze, insomma ci contava immagino e come è andata però questa conferma? Sì, diciamo è una bella conferma, ci contavo innanzitutto anche perché ho avuto modo in questi cinque anni di approfondire quindi le tematiche relative al territorio, ci contavo anche perché dopo cinque anni è bello sottoporsi al giudizio anche degli elettori quindi sull'operato che c'è stato nei cinque anni e poi una diciamo una doppia soddisfazione perché ho cercato anche di rinnovare un po' la squadra inserendo anche i giovani che sono un po' il nostro futuro, il futuro del paese per avere un proseguo anche non solo in questi cinque anni di mandato amministrativo che mi attendono ma anche andando oltre. Certo, quindi per far crescere nuove forze, nuovi cittadini anche con una consapevolezza e una partecipazione maggiore. È già stata presentata la squadra, credo ieri il primo consiglio, la prima presentazione ufficiale, giusto Sindaco? È stata giovedì scorso in consiglio comunale sì, quindi oltre al giuramento da parte del Sindaco, ho nominato, quindi effettuato la giunta, quindi i quattro nuovi assessori ma anche uno nuovo senso di appartenenza anche al territorio quindi motivando anche i consiglieri di maggioranza dando una delega a ciascuno di loro in modo tale che più si lavora e meno si fa fatica diciamo. Quindi è una responsabilità ulteriormente condivisa non solo da parte diciamo dell'organo esecutivo della vita amministrativa comunale ma anche dal consiglio in questo modo ha distribuito insomma un po' di queste responsabilità. Un po' di delega. Un po' di delega, anche perché da quando abbiamo iniziato a novembre a trovarci abbiamo scritto assieme un programma amministrativo bello ricco e quindi da lì è partito questo percorso di condivisione ascoltando i cittadini e stando tra la gente e quindi mi sembrava opportuno responsabilizzare anche i consiglieri di maggioranza in modo tale da aiutare tutti insieme a essere sul territorio e quindi essere partecipi anche dalla vita amministrativa. In che cosa la continuità, in quali aspetti rispetto al suo precedente mandato e quali invece le novità contenute nel suo programma e quindi quello che lei ha intenzione di fare nei prossimi cinque anni? Diciamo la continuità perché in questi cinque anni oltre ad avere attuato parecchi servizi ed opere, lo sa benissimo che in cinque anni è difficile portarli a termine, quindi si è già lavorato investendo sul futuro e quindi anche al di là di un singolo mandato amministrativo anche per i prossimi cinque anni. San Paolo d'Argono è un paese ricco, ricco di servizi e di iniziative, di un tessuto sociale vivo e quindi anche a livello di associazionismo. Quanti abitanti ha San Paolo d'Argono? 5.600 abitanti circa, quindi grazie anche al tessuto sociale, a forte associazionismo che c'è sul territorio, si è potuto incrementare questi servizi. Quindi opera prioritaria, oltre alle grandi strutture che sono comunque necessarie e doverose ma anche di mantenere, è continuare un percorso di attenzione, attenzione sociale verso le fragilità che ci sono, coinvolgendo quindi anche le numerose associazioni del territorio. Opere da fare, servizi da mantenere, magari questo auspicabile incrementare, in un contesto economico che sta andando in quale modo per chi amministra un paese? Non è sicuramente facile, però è compito anche di un amministratore quello di saper cogliere le opportunità che man mano si presentano sul territorio. È quello che abbiamo fatto in questi cinque anni. Due anni fa abbiamo sistemato e ampliato le scuole medie, quindi creando nuove strutture per le generazioni future. A gennaio di quest'anno abbiamo inaugurato il nuovo municipio, quindi un nuovo modo di fare comunità con uno sportello aperto al cittadino. Io l'ho definita subito casa della comunità, perché non deve essere la casa del sindaco o della giunta, ma deve essere la casa dei cittadini. Ecco, abbiamo portato comunque con delle risorse disponibili aperto queste nuove strutture. ed è un treno in corsa. Tanto è vero che fortunatamente ci sono state le lezioni amministrative. Abbiamo potuto con l'esperienza maturata continuare e proseguire quello fin qui portato avanti. Adesso ci aspetta durante il periodo estivo i lavori anche di adeguamento sismico alle scuole elementari, la riconversione dell'ex municipio, un centro poliambulatoriale, quindi sono iniziati da un mese e mezzo i lavori. San Paolo d'Argo negli ultimi vent'anni a livello democratico è cresciuto, si è raddoppiato. e quindi anche le strutture come il municipio che era inadeguato alle esigenze d'oggi, anche i poliambulatori medici ovviamente sono in spazi molto ristretti, non più sufficienti a sopportare la popolazione. È per quello che allora abbiamo deciso di riconvertire questo nuovo municipio, questo vecchio municipio in un centro poliambulatoriale, quindi studi medici, servizi infermieristici e anche dei servizi specialistici. Insomma un polo della salute l'abbiamo definito. Questo è sicuramente utile alla popolazione, un servizio prezioso. Diceva è incrementato il numero degli abitanti nel corso degli anni a San Paolo d'Argo. Avete raggiunto un livello superiore ai 5.000 abitanti che è un numero significativo, lo sappiamo perché al di sotto dei 5.000 abitanti si è praticamente tenuti alla gestione insieme ad altri comuni di tanti servizi, laddove non addirittura la fusione per i piccoli comuni. Nel vostro caso siamo al di sopra di questa soglia, però le chiedo se anche lei nel corso della sua passata esperienza e soprattutto d'ora in avanti ha intenzione o in progetto di unire le forze con altri comuni, magari per qualche singolo aspetto della vita quotidiana. Possono essere diversi i servizi, si va dalla polizia locale, dal gestione della sicurezza con la polizia locale, ad altri servizi. Avete già fatto esperienze di questo genere o intendete farle, Sindaco? No, no, le abbiamo già fatti, noi a livello di comuni insieme ad altri comuni facciamo parte dell'Unione dei Colli, l'Unione dei Colli nato dalla soppressione del consorzio di polizia locale dell'Unione dei Colli e qui gestiamo oltre la funzione di polizia locale altri servizi, quindi commercio, il SUAP, servizio delle attività produttive e anche lo sportello unico dell'edilizia. Poi a livello sociale, a livello consorzio servizi Valcavallina ci vede protagonisti da alcuni anni e lì la funzione sociale è già attiva. Come diceva è importante in questo periodo unire le forze, quindi a livello dove non si riesce a arrivare, a livello di singoli comuni, è giusto creare delle unioni, è giusto mettere insieme gli sforzi e creare anche delle funzioni associate. Quindi è convinto di questa, diciamo, della strada intrapresa e del percorso intrapreso che per molti versi è un po' una strada obbligata anche per risparmiare risorse senza togliere servizi ai cittadini? Non solo convinto ma penso che sia necessario, necessario in quanto a livello anche di blocco di assunzioni purtroppo i comuni hanno le mani legate e non possono fare altro che cercare di mettere insieme le forze per poter dare sempre i servizi ai cittadini. Ecco, alcuni suoi colleghi nelle settimane e nei mesi scorsi hanno lanciato l'allarme proprio da questo punto di vista per il blocco del cosiddetto turnover, quindi della sostituzione di personale che va in pensione, che si ritira o che sceglie altre strade, lasciando scoperte delle posizioni all'interno degli uffici, soprattutto della parte amministrativa del comune, che non possono essere rimpiazzate. Questo significa in alcuni casi non essere in grado di mantenere lo stesso livello di efficienza per i servizi dati al cittadino, quindi uffici che sono costretti a chiudere o a modificare il proprio orario. Come siete messi in questo senso a San Paolo, Sindaco? Ecco, questa è la nota un po' dolente. A livello di uffici amministrativi di San Paolo facciamo ricorso sia alle veciviche e quindi riusciamo a superire queste mancanze o criticità. La nota dolente riguarda proprio il servizio di polizia locale all'interno dell'Unione dei Colli. Siamo otto comuni e quindi garantire il servizio H24 sul territorio non è facile, a giorno d'oggi avendo solamente 24 agenti in organico. Ecco, se dovessi chiedere qualcosa è un allentamento proprio la possibilità di assumere il nuovo personale per garantire anche maggiore sicurezza e presenza sul territorio. La sicurezza, com'è la situazione sul territorio del vostro comune, Sindaco? Simile a quella di altre zone della nostra provincia? Tutto sommato episodi che rientrano in una sorta di situazione fisiologica ma nulla di preoccupante? Sì, diciamo nulla di preoccupante. Siamo nella quotidianità, ho partecipato anche a incontri sulla sicurezza a livello provinciale, quindi a livello di questore, a livello anche di prefetto. Possiamo considerarci, come San Paolo d'Argon ha detto di loro, un'isola felice in quanto non ha problemi di criminalità rispetto ad altri paesi. Certo è che comunque le criticità, le problematiche quotidiane ci sono e quindi dobbiamo sempre gestirli al meglio, gestirle con le forze che abbiamo a disposizione, cercando anche di coinvolgere i cittadini, quindi nel servizio anche di, io la chiamo cittadinanza attiva, quindi un buon rapporto è divicinato quando c'è qualche situazione critica di passare la voce e chiamare anche la polizia locale o le forze dell'ordine. Certo. Siamo quasi in chiusura Sindaco, abbiamo aperto parlando di giovani che le ha voluto coinvolgere anche nella sua giunta, come è stata la risposta da parte dei suoi giovani colleghi diciamo di giunta? È stata una risposta da subito entusiastica, le ha trovati pronti a volersi cimentare un'esperienza amministrativa e politica? Sì, premetto che non è facile coinvolgere i giovani a giorno d'oggi e la vita politica in quanto sappiamo benissimo che la disaffezione alla politica nazionale non aiuta, effettivamente però quando si parla di un territorio, quindi di un comune dove viene vissuto quotidianamente è più facile, la politica partitica fortunatamente non ha ancora intaccato i piccoli comuni, la persona di riferimento è Sindaco per qualsiasi cosa sul territorio, nel bene e nel male. I giovani comunque quelli che hanno deciso di mettersi in gioco, quindi dare qualcosa per il proprio paese ce ne sono e su loro bisogna investire perché sono il nostro futuro. Diciamo tra l'altro rispetto anche alle persone che meno anziane e quindi che hanno un po' di vissuto, hanno entusiasmo, spirito di intraprendenza. Certo adesso è difficile da parte loro, è quello di scontrarsi un po' con la burocrazia amministrativa che li frena un attimino il loro impeto, però sono molto fiducioso sul loro operato. Allora questa è la nota di ottimismo con cui chiudiamo questa chiacchierata con il Sindaco di San Paolo d'Argon, abbiamo già parlato delle scuole, della nuova destinazione del vecchio municipio, la prima cosa che farà ex novo, non ancora cominciata, che cosa si propone come primo punto di questa sua nuova legislatura, Sindaco? Ma diciamo ormai si sta pensando anche all'anno scolastico, è nuovo, quindi sempre parlando di giovani è un consiglio comunale dei ragazzi, ecco quello è la prossima iniziativa anche con l'inizio dell'anno scolastico, anche quello ci crediamo perché è un senso civico, deve essere, se vogliamo che crescano bene i giovani, deve essere portato a scuola e devono essere anche loro responsabilizzati e portare qualcosa anche al tavolo del consiglio comunale dei più grandi. Ci tiene insomma a coltivare le giovani generazioni Stefano Cortinovi, Sindaco di San Paolo d'Argon, che ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro Sindaco e buon proseguimento all'intera comunità, grazie. Grazie a voi, grazie davvero, ringrazio voi per averci seguito, ricordandovi gli appuntamenti con il nostro telegiornale ogni giorno alle 12 nell'edizione serale delle 19.30, grazie e buon proseguimento di giornata, a presto. Grazie a voi, grazie a voi.